La gestione unica degli aeroporti calabresi è ormai qualcosa di più che una semplice possibilità. La SACAL, società che governa lo scalo di Lamezia, ha rotto gli indugi e deciso di tentare la scalata agli aeroporti di Crotone e Reggio. Lunedì 10 ottobre, giorno in cui scade il bando predisposto dall'ENAC per l'affidamento dei servizi aeroportuali, la società presieduta da Colossimo presenterà la propria candidatura, così come stabilito prima dal Consiglio di Amministrazione e poi dall'Assemblea degli Azionisti. Il business plan che prevede la creazione di una società unica per i tre aeroporti calabresi ha avuto il sostegno quasi unanime dei soci. Ad astenersi sono stati soltanto Banca Carime per ragioni tecniche e la società aeroporti di Roma, che detiene il 16,5% delle quote. Ed è questa stensione quella che destra più di qualche preoccupazione. Il colosso ADR potrebbe essere interessato a partecipare in maniera autonoma al bando. In ogni caso l'operazione che si delinea dopo il fallimento delle società che hanno gestito gli aeroporti di Crotone e Reggio è assai ambiziosa e potrebbe segnare una svolta nel sistema del trasporto aereo in Calabria. La gestione centrale degli scali potrebbe saltarne le peculiarità e metterle in rete, evitando concorrenzialità inutili che spesso si sono trasformate in guerre tra poveri. Ed è un'idea che non dispiace per nulla alla politica. Il governatore Oliverio ha annunciato la possibilità di mettere 11 milioni sul trasporto aereo in tempi rapidi e in consiglio regionale dovrebbe presto arrivare una legge di riorganizzazione complessiva del sistema. Una legge che ovviamente avrebbe possibilità di successo più elevate con una sola società alla guida degli aeroporti. Riccardo Tripepi per la CNews24.